Sport, solidarietà, prevenzione, turismo. Tanti ingredienti in una sola domenica tutta Varesina. Lions Club e Eco Run uniscono le forze per portare benessere, bellezze e salute nel cuore del capoluogo. Per quanto riguarda la componente sportiva, il menu competitivo disponibile sul sito ecoranvarese.it è pronto ad accontentare tutti i palati. La novità di quest'anno è la mezza maratona che si disputerà all'interno della città di Varese in un unico percorso. Vedrà la partecipazione di più di mille atleti, sarà anche campionato regionale CUS Lombardia per cui ci saranno atleti anche di valore. A questo si aggiungono le altre gare, ma anche il villaggio sportivo, le visite tra le bellezze della città e appunto la sinergia con Lions Day che propone un'intera giornata di screening e visite gratuite. Sono circa 18 i medici specialisti coinvolti in questa grande opera di servizio che facciamo alla popolazione e che ogni anno riscuote sempre molto molto successo. Da Palazzo Estense un ringraziamento ai registi della giornata. Grazie a Eco Run per portare avanti questo progetto che per la città è importantissimo e grazie ai Lions che hanno deciso di unire le forze ad Eco Run.